Buongiorno a tutti, dallo stand ICA alla fiera IBA 2018. Quest'anno presentiamo due soluzioni innovative che vengono mostrate per la prima volta proprio a questo evento. La prima è la possibilità di avere un gruppo per applicazione cavaliere di testa in linea a una confessionatrice, quindi la macchina forma evidente il sacchetto, dopodiché viene applicato questo cartoncino sulla testa del sacchetto. La seconda possibilità è quella invece di avere un cartoncino che avvolge completamente il sacchetto, viene chiamato cavaliere completo e questa è sempre un'unità in linea, una seconda macchina che viene posta dopo la confessionatrice e che serve proprio per applicare questa seconda tipologia di sovraimballo.